Ho portato una storia, una storia che riguardava l'America e la Sicilia e che stava cambiando il corso della Seconda Guerra Mondiale e anche la nostra vita. Sorrini! Flora! Ti devo dire una cosa importante. Ti amo. Propongo un brindisi al fidanzamento di Carmelo e della mia nipotina Flora. Se tu vai a parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano e lui ti dice sì. È fatta. Lui è l'unico che si può porre a zio Alfredo. E dove abita? A Crisafullo. Ah, a Crisafullo, vabbè, prendiamo un autobus o un taxi, va. E dove è Crisafullo? In Sicilia. In Sicilia? In Sicilia? We need some brave men for a special mission in Sicilia. I'm heading to Crisafullo. Yeah. I'll see. E voi siete in Calogia russa? Chiamatemi Don Calo. Questo paese, Kukampa, Kukmor, lo decide io. E voi siete in Calogia. E voi siete in bands. I qui sii in calogia russa sono le siste. Checking out le siste di oxygen se è stato diAD, E voi siete in champi di vole, Se stara, a� Sabrina è inaccurata. E voi siete e sei ma ranged孩子. E 마ossena, c'èpa voi siete in per 왜? E voi siete in ecst 활동, È come sempre buiti. I sike li met殇.